C'è un'organizzazione intergovernativa per la realizzazione di un laboratorio di luce di sincrotrone. Usa tecnologie simili a quelle che sono al CERN, nel senso che c'è un acceleratore di elettroni, però lo scopo qui è di utilizzare questi elettroni accelerati come sorgente di radiazione. La radiazione che si produce in questo modo ha delle caratteristiche che non si riescono ad avere in un altro modo. Di questi laboratori ce ne sono svariati in giro per il mondo, sono circa una sessantina, se ti ricordo, di cui una quindicina in Europa, nessuno nel Medio Oriente. Il laboratorio ha nove membri, la Turchia, Cipro, Egitto, Giordania naturalmente, Pakistan, Bahrain, Iran, autorità palestinese e Israele. Quindi è evidente da questa lista che ci sono paesi che in altri ambiti si parlano con difficoltà. L'idea iniziale era di ricostruire un acceleratore originariamente montato a Berlino. Quando il progetto ha progredito si è capito che in realtà rimontare questo acceleratore così come era qui non avrebbe portato gli effetti di richiamo di ricercatori in giro per il mondo. Allora si è deciso di usare parte di quell'acceleratore dismesso dalla Germania come iniettore e di costruire un anello più grande. A quel punto ci si è posto il problema di dove andarlo a montare. Ci sono dei motivi pratici per farlo in Giordania che sono comuni alla Giordania e altri tre soli membri di Sesame cioè l'Egitto, Cipro e la Turchia. Un europeo non ci pensa a questi aspetti ma questi quattro paesi sono gli unici dove tutti gli altri possono entrare. Le applicazioni come dicevo sono svariate. Il campione va da un atomo isolato a un essere umano con tutto quello che c'è in mezzo e quindi i ricercatori che usano questo tipo di sorgente vengono a discipline più svariate che si va dalla fisica fondamentale alla chimica alla biologia anche alla scienza dei materiali. studio di manufatti che è molto importante in quest'area e quindi anche dal punto di vista delle discipline coinvolte è un bel modo per sviluppare collaborazioni quindi non solo tra paesi diversi ma anche fra discipline diverse. Qua si costringe un fisico a lavorare con un ingegnere, con un biologo e un chimico per risolvere un problema specifico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.